Salve a tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video, io sono Valeria e oggi siamo a Santorini. Era da un sacco di tempo che abbiamo programmato questa vacanza, l'abbiamo prenotata a febbraio e adesso siamo al 12 settembre, quindi è passato un po' di tempo, non vedevo l'ora che cominciasse. In realtà non è cominciata proprio nel migliore dei modi perché siamo arrivati qui con Blu Panorama e torniamo anche con Blu Panorama, cosa che mi atterrisce, e Aibola ha fatto un ritardo di otto ore. Noi siamo rimasti otto ore al terminal a Bologna sperando in un miracolo, sperando che l'aereo partisse. Inoltre, quando finalmente l'aereo è partito, considerate che noi dovevamo arrivare a Santorini, tipo per le otto e mezza, siamo arrivati alle quattro del mattino alla fine. Quando finalmente è partito l'aereo era una carretta, nel senso non ti dava per nulla una situazione di sicurezza orribile e abbiamo fatto uno degli atterraggi più brutti che nella mia vita di prendo due, quattro ore al mese ha contato parecchio, è stato veramente un bruttissimo atterraggio e il cielo era abbastanza sereno, non c'era turbolenza e nient'altro. Detto questo, sono comunque contenta di portarvi in giro per Santorini con me, mi fa molto piacere. Adesso noi andiamo in realtà al mare e io non vi porto con me perché lasciare la macchinetta sulla spiaggia non mi sembra la cosa più furba da fare. Per cui ci vediamo oggi pomeriggio, abbiamo già fatto un mezzo giro per Santorini e adesso siamo affacciati al balcone perché noi adesso siamo in un appartamento, abbiamo il balcone e sembra tutto perfetto. C'è esattamente come lo immaginavo, quindi adesso vediamo che succede. Lettori, siamo arrivati a Oia. a nord dell'isola ed è uno spettacolo della natura. È incredibile quanto sia bello questo posto. Only problem, c'è un sole che picchia da morire. E io ho messo, vi faccio vedere intanto, qua sono tutti hotel, tutti alberghi di lusso, con piscine eccetera. Almeno da questa parte di Oia perché siamo proprio appena arrivati, siamo vicino a dove abbiamo parcheggiato i quad. Comunque sole che picchia tantissimo, io ho messo la crema solare solo in faccia e non l'ho portata con me e me ne sto pentendo tanto, tanto, tanto. Per cui mi raccomando, anche se è venita a settembre inoltrato, cioè copritevi di protezione 50. Secondo me stasera io sarò distrutta. Secondo me stasera io sarò distrutta. Siamo a Caldera View, che è questo locale che è appunto su un punto bellissimo, dal quale ammirare il tramonto Santorini. Purtroppo siamo arrivati un po' tardi, però comunque sedersi qui con un po' di vino e ammirare il mare. C'è ancora un po' di rosse, in realtà siamo arrivati qualche minuto fa, anzi una ventina di minuti fa, però perdonatemi, mi sono dimenticata di vloggare. Ero troppo presa da tutta la situazione, ecco, vi faccio vedere il locale. Ciao Chiara! Ciao Piero, non mi sto al canale troppo su Instagram, ci vediamo prossimamente. Sapete che tutto questo finirà nel video, vero? Andate su... Se ve ne rendete conto? Un share fumetti di qualità. Ok. È un canale molto interessante che parla sempre di fumetti, comunque attinente a quello di cui... Ah, si può fare pubblicità? Allora su chebueni.it o mangi a consapevole? Ragazzi, io lo metto questo video. No. Cioè voi non ve la prendete con me, io lo sto mettendo. Paglina, paninoteca, Andrews. Paglina, se è gratis e non si paga la pubblicità... Paglina. Chiara, tu vuoi dire qualcosa? Questo video partirà... Il video partirà tra 5... Cambiate vostro... Chiara ha un account Instagram bellissimo che si chiama Travel Destination Wikia. Vi metto magari il link nell'info box e il suo account Instagram di viaggi. Posso chiudere qui ragazzi? Avete altro da dire? Vuoi fare delle donazioni? Chiara, 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 chiara. Non so se sentirete quello che sto dicendo. Visto che abbiamo i quad fino alle 5, abbiamo deciso semplicemente di girare l'isola e di condirci la zona fino alle 5 e poi rimarremo a Fira e poi ci dobbiamo. Ancicinante come questa vacanza si è già finita, sembrava tipo una cosa infinita, 5 giorni, fantastico, faremo un sacco di cose, invece siamo già arrivati alle ultime ore. Che palle! tra 20 minuti ci marcano sul nostro volo per tornare a Bologna perché il volo sarà in tempo non sappiamo se ci sarà ritardo o altro perché ovviamente stiamo rivolando la blu panorama comunque visto che siamo ormai al gate questo video è finito io vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia anche in questa vacanza questa qui è stata probabilmente la vacanza che è volata più di tutti in assoluto mi sembra di essere arrivata ieri mattina a Santorini e siamo praticamente già andando via è stata una bellissima esperienza un consiglio che vi voglio dare proprio al volo prima di più dire questo video procuratevi un mezzo vostro per girare l'isola che sia la moto, la macchina, il quad vi troverete veramente benissimo uno perché... niente, dovevo imbarcare tra 20 minuti e imbarchiamo tra 2 minuti quindi i miei consigli per il mezzo vostro uno perché così vi godete tutti i paesaggi che non vedrete mai con l'autobus due perché potete andare nei posti più impervi a mangiare benissimo ed economicamente per cui spenderete poco a rimanere sull'isola che ha i suoi prezzi io vi ringrazio, mando un bacio e ci vediamo giovedì grazie a tutti grazie a tutti